Nizza, 1807, l'isola di Caprera, 1882, sono le due date di nascita e di morte di questa grande vita, Giuseppe Garibaldi. Grande vita per davvero nei fatti, è diventata ancora più grande nella leggenda, è un personaggio mitico, ma il mito ha molti fondamenti. Bene, il 1807 perché è così importante? Ovviamente perché nasce, va da sé, ma per una coincidenza casuale che finirà per assumere invece molto significato. È la data di uscita di un famoso poema, I sepolcri, di Ugo Foscolo. Foscolo come poeta, come uomo, come opera, interessa moltissimo Giuseppe Garibaldi. Garibaldi è un marinaio, figlio di marinaio, padre andava in giro per Mar Ligure e Martirreno, la sua tartana non si spingeva oltre. Garibaldi sarà molto più avventuroso in tutto il Mediterraneo ed oltre fino a Sud America. Fa gli studi che poteva fare il figlio di un marinaio all'inizio dell'Ottocento, ma fa degli studi e si appassiona di letteratura e visiterà Roma appassionandosi della storia di Roma. Allora Foscolo perché è così importante? I sepolcri, le tombe. Nell'Ottocento era famosissimo l'inno di Garibaldi, adesso meno, ma è tutto basato sui grandi morti. Si scoprono le tombe, si levano i morti e i martiri nostri sono tutti risorti, così cominciava l'inno di Garibaldi. Com'è questo? Perché la rinascita dell'Italia, quella che viene concepita all'inizio dell'Ottocento come una rinascita, non per niente si chiamerà risorgimento, non è sentita come una nascita, ma come una rinascita, si basa proprio sul capitale simbolico dei grandi morti del passato. E Foscolo nel 1807 scrive questo nell'opera che non per niente si chiama I sepolcri che le generazioni a scuola studieranno. Bisogna ispirarsi al passato perché questo ha di grande la piccola Italia d'inizio Ottocento frammentata in piccole staterelli, il suo passato. Se si è grande di nuovo nel presente. Garibaldi con altri, con Mazzini, Mazzini era nato due anni prima nel 1805, Garibaldi con Mazzini, con Foscolo e con altri sarà un interprete di questa ripresa collettiva della nazione italiana. Qual è la situazione allora? Quando Garibaldi è un ragazzino e comincia ben presto a fare il mozzo e andare in giro per il mare. La situazione italiana è quella di una parcellizzazione per cui nessuno Stato è abbastanza grande in sé per avere una politica indipendente. Uno dei traguardi del risorgimento sarà appunto l'indipendenza nazionale, ma l'indipendenza ci sarà in quanto si sia raggiunta una misura di stato decente. Certo l'Italia resterà comunque più piccola e meno forte dei vicini, però non c'è paragone. Il Regno di Sardegna che è quello che aveva dietro di sé una storia più lunga, comunque era piccolo e da secoli costretto a fare i salti mortali dal punto di vista diplomatico, prima ancora che militare, perché era un vaso di coccio tra vasi di ferro. Ecco, allora chi pensa l'Italia oltre a Foscolo e in generale? Sono gli uomini di lettere, i poeti, gli scrittori, Manzoni, Leopardi, ancora di più Ippolito Nievo, perché Nievo è addirittura uno dei mille di Garibaldi nel 1860. Allora partiamo da questo punto che è interessantissimo che nel risorgimento italiano, prima metà dell'Ottocento e un po' di più, gli uomini di lettere come Foscolo si facciano uomini d'azione e gli uomini d'azione, prima come marinaio, poi anche come militare Giuseppe Garibaldi, si mette a scrivere lui pure poemi e romanzi. Nato nel 1807, Garibaldi è giovane nel 1834, cos'è avvenuto di lui nel frattempo? Come succedeva nelle famiglie dei marinai, era andato Mozzo che era ancora un ragazzino, aveva visto il mondo da una nave, ha visto tutto il Mediterraneo ed è approdato a vari paesi. Bene, in uno di questi viaggi incontra un mazziniano, è la svolta della sua vita. Non conosce ancora Giuseppe Mazzini, ma incontra l'associazione fondata da Mazzini, la Giovine Italia. Si infervora immediatamente Giuseppe Garibaldi, diventa un militante, non si accontenta di parlare della libertà, dell'indipendenza d'Italia, che deve essere una indipendente, libera e repubblicana. Vuole fare, Garibaldi è un uomo del fare, un giovane uomo del fare, sin qui del fare come mestiere avventuroso. Un marinaio ne vede, ne fa di tutti i colori, ma i marinai erano tanti. Non bastava naturalmente che avesse avuto una vita avventurosa in quanto uomo di mare, bisognava aggiungerci qualche cosa. Ecco, questa aggiunta è la politica, la scoperta della politica e la scoperta dell'Italia. Nizza, dove è nato, faceva parte del Regno di Sardegna ed era abitata da molti italiani. Che cosa fa subito Garibaldi? Mazzini era un personaggio carismatico circondato di giovani da cui era seguito con fede, con immedesimazione. All'inizio la giovane Italia vuole reclutare solamente i giovani, non per niente si chiama così, naturalmente è giovane l'idea del paese, giovane insieme antica perché c'è questo capitale simbolico del passato, ma giovani possono e debbono essere i militanti della giovane Italia. Perché? Perché Mazzini pensa che quelli che hanno già 40 anni o più siano legati a forme dinamiche politiche precedenti. Ecco, bisogna ripartire, per ripartire bisogna avere i ragazzi, i giovanissimi, i giovani, Garibaldi è uno di questo. Ed eccolo subito impegnato in una delle tante cospirazioni segrete, perché non si poteva mica far politica alla luce del sole, nell'Europa in cui il congresso di Vienna del 1815 aveva restaurato l'assolutismo, i re, i re assoluti. Allora questa cospirazione dovrebbe far sollevare contemporaneamente in due punti il Regno di Sardegna, di cui Garibaldi e anche Mazzini sono al momento sudditi. Nella Savoia, che ancora fa parte del Regno di Sardegna, e a Genova. Garibaldi è incaricato da Mazzini, dalla giovane Italia, di far sollevare la flotta, le navi del Regno di Sardegna, visto che lui è un mazzinaio, quindi circola all'interno di questo mondo marinaresco, può incontrare tanti altri come lui. Un fallimento clamoroso, non succede pressoché nulla, come purtroppo è avvenuto in tanti altri casi, dei tentativi mazziniani. Quello che succede davvero, che cos'è? È che Garibaldi, avvertito in tempo del fallimento, riesce a fuggire, non viene preso, però i Tribunali del Regno di Sardegna lo processano lo stesso, lo processano in contumacia, lui non c'è, è già altrove e lo condannano a morte. Non è che ci sia da stupirsi, per questo aveva cercato di far ammutinare la flotta, una cosa terribile come reato di sapore politico e militare, molto più come un reato comune. Insomma è interessante ai fini della storia d'Italia che va nascendo che Garibaldi, Garibaldi, l'eroe, quello che è destinato a diventare il simbolo del sorgimento, parta con una condanna a morte che gli è combinata proprio dal Regno di Sardegna, cioè il bozzolo originario del Regno d'Italia. Dal 1834 al 1848 Garibaldi è in esilio, lontanissimo dall'Italia, in Sud America, Brasilia, Argentina, Uruguay, queste le stazioni della sua lontananza. Molti vanno in esilio tra i patrioti del risorgimento italiano, ma di solito in Inghilterra. Mazzini, anni, li passa in Inghilterra o in Svizzera, altri in Francia. Qualche d'uno come Gioberti nei Paesi Bassi, il primato nasce lì. Per Garibaldi, uomo di mare, la vita, il mestiere, l'esperienza, le relazioni che ha, lo portano per un po', subito dopo la fuga del 1934, in giro per il Mediterraneo e poi decisamente più lontano. E lì c'è un quindicennio in cui c'è un altro Garibaldi, nel senso che in quella fase lì non partecipa direttamente al farsi dell'Italia unitaria. Ma è lo stesso Garibaldi dal punto di vista della costruzione dell'uomo avventuroso, dell'uomo di gesta, del valoroso, del coraggioso. Fa anche il corsaro, non il pirata, attenzione, il corsaro, cioè chi è incaricato da uno Stato di fare una guerra da corsa, attaccando i nemici di quello Stato, come abitualmente nei secoli precedenti aveva fatto l'Inghilterra, per esempio. Tutto questo giova naturalmente a far conoscere comunque, anche se è così lontano, e anche in Europa questa figura che va diventando leggendaria, tanto che Alessandro Dumas, l'autore dei tre moschettieri, si accorge di lui e comincia già a scriverne. Poi Dumas seguirà Garibaldi anche nella sua più grande avventura, che è quella di Sicilia, nel 1860. Allora, siccome fa l'uomo di guerra è importante andare a verificare le cause che ha servito. Allora, così all'ingrosso gli storci riconoscono che non ha commesso gravi errori dal punto di vista del suo posizionarsi politico nelle lotte continue, nelle guerre di guerriglia che ci sono in Brasile, in Argentina e in Uruguay. Per cui in sostanza la sua figura che eccelle dal punto di vista tecnico, in quanto militare, capo, leader carismatico, non ci perde neanche particolarmente dal punto di vista politico. Si circonda di italiani, italiani che come lui sono fuggiti per motivi politici dalla penisola e sono esuli politici. Oltre a questo comincia già ad esserci anche un'immigrazione di tipo non politico. In ogni caso comunque non ha nessuna ragione e possibilità Garibaldi in quel quindicennio di dimenticarsi dell'Italia, non solo perché non vuole dimenticarsi dell'Italia, e se ne ricorda sempre, come proprio degli esuli, ma anche perché è circondato di altri italiani. L'esilio è proprio un istituto, è stato notato da più di uno studioso, è un'istituzione nella costruzione dell'Italia, che è una costruzione mentale, prima che pratica, effettiva, militare e politica. L'Italia viene pensata, sognata, idealizzata da fuori, da altri paesi. L'Italia, amor di terra lontana, questo è verissimo per Garibaldi che è il più lontano di tutti. Non così lontano da non sentire risuonare il grande richiamo europeo, mondiale, non solo italiano, del 1848. Questo è un anno chiave dell'Europa, cioè tutta l'Europa che ribolle, che si mette in movimento, che rifiuta l'Europa dei sovrani e delle chiese, alleati tra di loro, l'Europa è la restaurazione. È l'Europa della rivoluzione che entra in lotta contro l'Europa della restaurazione e contro rivoluzionaria. Ecco dunque Garibaldi e decine di altri italiani in esilio trovarsi una nave abbastanza grande per poter superare l'oceano e correre il più veloce che si può verso l'Italia per andare a fare anche loro il 48. Il giovane Garibaldi, dopo la condanna a morte delle autorità sabaude, è costretto a fuggire dall'Italia. Nel 1835 decide quindi di far rotta per il Sud America. Arrivato a Rio de Janeiro all'inizio del 1836 entra subito in contatto con gli esuli mazziniani e ben presto decide di combattere al fianco dell'esercito indipendentista che si era ribellato all'autorità dell'impero brasiliano. Garibaldi si pone a capo di una flotta corsara che attacca le navi mercantili che si dirigono verso i porti brasiliani. In questo modo non solo l'economia del paese subisce un duro colpo ma il clamore del conflitto si allarga anche al resto del mondo. In pochi anni però la ribellione viene sedata e Garibaldi ancora una volta deve fuggire. Cinque anni dopo, nel giugno del 41, dopo una lunga marcia durata sei mesi, l'avventuriero italiano riesce a riparare in Uruguay. L'Uruguay, che ha da poco conquistato l'indipendenza dall'Argentina, è un paese dilaniato da una feroce guerra civile. Garibaldi si schiera subito a favore della fazione che combatte contro gli argentini per mantenere la libertà appena acquisita. A capo della legione italiana, formata da qualche centinaia di uomini in camicia rossa, egli diviene il protagonista indiscusso della celebre vittoria ottenuta nel 46 a San Antonio del Salto, dove l'esercito repubblicano trionfa contro un avversario di molto superiore. Raggiunto dalle notizie delle insurrezioni italiane, nel 1848 Garibaldi decide di far ritorno in patria per offrire il proprio contributo alla nuova lotta libertaria. L'eco delle imprese sudamericane lo accompagna nel suo rientro in Italia, dove si distinguerà presto per il ruolo svolto durante l'unificazione. Nasce così il mito dell'eroe dei due mondi. Siamo abituati a dire 1848 o Tukur 48. In realtà il 48 si prolunga nel 49. E questo è vero in particolare per la Repubblica di Venezia, che dura fino ad agosto del 49, per la Repubblica di Roma, che nasce addirittura nel febbraio del 49, e per Garibaldi, il cui il 48 più importante è appunto ciò che avviene nel 49. Perché? Perché per quanto si affrettino a veleggiare verso l'Italia, comunque arrivano non a cose fatte, ma a cose già avanzate per quanto riguarda i moti e la guerra di indipendenza del 48. C'è un momento politico importante comunque, forse più significativo, possiamo considerare il suo tentativo, che compie già adesso e che continuerà a compiere negli anni a venire, di prendere positivamente contatto con i monarchici, con i moderati, con gli uomini delle istituzioni, con il regno di Sardegna, il cui re è ancora in quel momento Carlo Alberto. Figura contrastata a quella di Carlo Alberto, che era giovane quando era ancora un principe, non aveva rifiutato contatti con i patrioti del 1821. Poi però il momento buono si era allontanato da loro e ne era stato considerato un traditore. Il padre e lo zio gli avevano fatto capire che se no ci perdeva la corona e insomma si portava presso Carlo Alberto, diventato re di Sardegna, un'immagine di opportunista. Nonostante questo, benché sia un re con questa immagine, Garibaldi si mette a disposizione pur di fare insieme l'Italia. Questa è la linea normale di molti repubblicani, fare l'Italia unita, indipendente e poi si vedrà se i monarchici o i repubblicani. Il rifiuto di Carlo Alberto è netto. Cosa vogliono? Costoro. Non si fida. E in generale i moderati, i monarchici, i biamontesi si infideranno sempre assai poco dei garibaldi. Sportiamoci adesso a Roma. A Roma c'è un moto quarantottesco, si è elogorato il mito di Pio IX, papa liberale. All'inizio, quando era nato nel 1946, era stato visto così, un papa diverso, un papa nuovo, dei nostri, faremo la guerra insieme, faremo l'Italia insieme. Non è vero, ovviamente, il papa è il papa anche degli austriaci. Il problema è che lui è papa re, allora in quanto papa è papa di tutti, in quanto re è un re italiano, deve scegliere se trasformare o non trasformare la penisola. E lui traccheggia, incerto, finché se ne fuggi a Gaeta, che significa una fortezza del re delle due Sicilie, il peggio del peggio. Che il papa lasci Roma e scappando da Roma vada a mettersi sotto la protezione proprio dal re delle due Sicilie, è una scelta politica assolutamente reazionaria e chiarissima. A Roma, intanto, c'è la rivoluzione che governa e c'è anche Mazzini che governa. I garibaldi, che non governa politicamente, ma è importante, ha dei ruoli significativi militarmente. Accorrono volontari da tutta la penisola. A Roma, Roma è una città simbolo fondamentale, lo è per Mazzini, lo è per Garibaldi, lo è per tanti, arrivano non solo repubblicani, arrivano anche monarchici e combattono insieme. Contro chi? Contro i francesi. Perché? C'è la Repubblica, per il momento, provvisoriamente in Francia e questo dovrebbe rendere i francesi amici dei repubblicani italiani. Ma non è così perché Luigi Napoleone vuole far carriera, ma vuole far carriera come monarca, è il nipote di Napoleone il Grande, riuscirà a diventare imperatore, ma deve tenersi buoni i preti. E il Papa ha chiesto aiuto contro i repubblicani. Nel febbraio del 49 nasce la Repubblica, arrivano i francesi, Garibaldi è fortissimo, spiana la guerriglia, i suoi volontari sono coraggiosissimi, ci sono scontri cruenti sulle mura di Roma, ma alla fin fine gli assedianti prevalgono. Prevalgono anche con il tradimento, sono molto discutibili i metodi usati da questi strani repubblicani, ma alla fine accade insomma. E la Repubblica deve cedere. Siamo nell'estate del 49. Cosa succede di Garibaldi? Fa una specie di adunata degli ultimi volontari disposti a seguirlo nella ritirata che si rende strategicamente necessaria. Sono ancora 4 mila. Nel momento della sconfitta 4 mila volontari sono ancora disposti a seguirlo per tutta l'Italia centrale verso dove? Verso Venezia. Venezia che resiste, non riuscirà mai a raggiungerla. E via via i 4 mila diventano sempre meno, non c'è una logistica, cosa mangiano? Tutti questi volontari è una parola. Quelli che vengono a prendere gli austriaci possono anche essere fucilati sul posto, come avviene per esempio a uno dei frati, i sacerdoti che sta con lui, Ugo Bassi. Garibaldi si salva fortunosamente. Perde Anita, la sua moglie sudamericana. Fa parte del romanzo e della leggenda di Garibaldi che Anita muoia durante questa straordinaria ritirata. Sembra un romanzo romanticissimo di amore e morte. Nel mese di marzo del 1848, nel fermento rivoluzionario che attraversa l'Europa, Venezia si ribella agli austriaci e viene proclamata la Repubblica Veneta. Anche Milano insorge e in seguito alle celebri cinque giornate, l'esercito comandato dal maresciallo Radetzky è costretto a ritirarsi ai confini tra Veneto e Lombardia. Di questa situazione cerca di approfittare il Piemonte dei Savoia, che dichiara guerra all'Austria. Lo scontro è però impari. L'Austria costringe facilmente gli avversari alla resa e recupera i propri territori. Le lotte democratiche in Italia però non si interrompono e nello Stato Pontificio ha inizio la breve esperienza della Repubblica Romana, a cui partecipano anche Mazzini e Garibaldi. In questo scenario Carlo Alberto decide di riprendere le armi contro il nemico austriaco. Nella decisiva battaglia di Novara, tuttavia, il re Sabaudo viene nuovamente sconfitto ed è costretto ad abdicare in favore del figlio Vittorio Emanuele II. La guerra austro-piemontese di dieci anni dopo ha un esito ben diverso. Questa volta il conflitto viene preparato per tempo grazie alla sapiente diplomazia di Cavour, che sigla una fondamentale alleanza tra il Regno Sabaudo e la Francia di Napoleone III. Solo a questo punto il Piemonte decide di muoversi contro il nemico e nel 59 ha inizio la seconda guerra di indipendenza. Gli austriaci vengono ripetutamente sconfitti a Magenta, Solferino e San Martino, ma all'improvviso Napoleone III decide di interrompere la guerra e a Villafranca firma un armistizio con l'Austria. Tale situazione finisce però con il volgere a favore dei piemontesi. In tutta l'Italia centro-settentrionale scoppiano numerose insurrezioni che costringono alla fuga i vecchi sovrani. La strada all'unificazione nazionale è ormai aperta. Il piccolo Regno Sabaudo può ora procedere alla progressiva annessione dei vari stati italiani e in seguito alle imprese garibaldine nel sud della penisola nel 1861 verrà proclamato il nuovo Regno d'Italia. Il dopo 48 e il dopo 49 vede il sormontare dei moderati e monarchici sui repubblicani che hanno avuto il loro momento e l'hanno perduto. D'altra parte non ci sono o quasi repubbliche in giro per l'Europa. Ci sono quasi dappertutto monarchie. Monarchia uguale ordine. Negli anni 50 si afferma il Regno di Sardegna come lo strumento, l'interprete, il luogo dei moderati e della monarchia. Anche perché il Piemonte trova un grande leader. Camillo Benzo, conte di Cavour. Gli anni 50 sono gli anni della preparazione all'unità d'Italia che sarà nel 1861. Mentre Mazzini compie gli ultimi tentativi alla sua maniera con la giovane Italia ma sono conati che non si concretizzano e che servono a confermare ai moderati e ai monarchici che hanno ragione loro. E molti anche dal mezzogiorno, reduci dai moti, ex repubblicani magari, ex membri della giovane Italia, accorrono a Torino che diventa il luogo di riunione di tutti quelli che vogliono fare l'Italia. Intanto Garibaldi fa parte anche lui della riserva in attesa degli eventi disponibili per situazioni che bisognerà in parte produrre, in parte potranno darsi a seconda delle circostanze europee perché naturalmente quello che accade in Italia avviene in un contesto di movimento e di stasi europee. Ormai ciò che avviene in Italia viene guardato anche da fuori come una cosa che può interessare tutti. Il rischio è che sia un focolaio di rivoluzione. Cavour e i piemontesi utilizzano questo in positivo per dire se voi sovrani, se voi ministri dei sovrani europei non volete la rivoluzione che potrebbe nascere dal focolaio italiano, ebbene dovete fidarvi del Piemonte. Noi siamo l'ordine, noi vi garantiamo un rinnovamento parziale, moderato, contenuto. Grosso modo sarà proprio questa la linea a prevalere. E si arriva così alla seconda guerra di indipendenza, quella del 59, importante delle tre guerre di indipendenza. È una guerra preparata diplomaticamente da Cavour che guarda alla Francia di Napoleone come a un amico e non un nemico. E in effetti da questa alleanza franco-piemontese esce molta parte di quella che sarà il Regno d'Italia, ma certo non ancora l'unità d'Italia. Arriva la Lombardia, ci sono delle insurrezioni nei vari Ducati dell'Italia centrale, ci sono dei plebisciti, il Regno di Sardegna si ingrandisce a questo punto. Perché Garibaldi abbia potuto contribuire anche lui alla seconda guerra di indipendenza, andiamo verso il suo grande momento che è il 1860. Il 5 maggio del 1860 i mille, i famosi mille, che sono un po' più materialmente di mille, partono dallo scoglio di Quarto vicino a Genova e vanno verso dove? Lo sapranno strada facendo sulle due navi, il Piemonte e il Lombardo, verso la Sicilia. Attaccano il Regno delle due Sicilie. Là tutti sanno o credono di sapere in Europa che le cose vanno in un modo così disastroso che ci sarà la rivoluzione. Non è vero, e altri tentativi da Mazziniani, da Pisacane, erano stati compiuti negli anni precedenti sulla base delle condizioni oggettive di miseria, ma non è sempre detto che dalle condizioni oggettive nascono condizioni soggettive, volontà politica di rinnovare. In questo caso le cose vanno molto meglio che in precedenza. La Sicilia accoglie volentieri l'arrivo dei mille, i mille diventano sempre di più, diventano decine di migliaia, il passaggio dello stretto sarà difficoltoso, tutte quelle flotte che sono lì a vedere che cosa succede alla fine non impediscono. Comunque si è andato il passaggio dello stretto. In Calabria le truppe dei volontari garibaldini avanzano velocemente e Garibaldi arriverà a Napoli. Ormai l'esercito dei volontari è un esercito di decine di migliaia, si è ingrossato stata facendo. L'esercito napoletano era molto più consistente, era sull'ordine delle centomila persone, era stata una pazzia partire, sì, era stata una pazzia. Il risorgimento è anche figlio di questa follia che punta sulla disgregazione di questo stato vecchio che non ha più ragione di stare insieme. E in fondo questo funziona. Quello che non funziona è la speranza repubblicana di molti di quelli che avevano partecipato alla spedizione di Sicilia. In sostanza sono i militanti della Giovene Italia che hanno alimentato la spedizione di Sicilia. Però Garibaldi è entrato da qualche tempo nella società nazionale. E il motto, la parola d'odine della società nazionale è Italia e Vittorio Emanuele. Che vuol dire? Italia sì, unità d'Italia, quella che voleva Mazzini. Però monarchica. E sotto Vittorio Emanuele che intanto è diventato il re di Sardegna. E così succederà. I messi di Cavour raccorrono verso Garibaldi che ha vinto persino troppo. E Garibaldi, come avverrà in altri casi, Garibaldi non se la sente di far precipitare il paese che sta nascendo nella guerra civile tra monarchici e repubblicani. Cede, regala un regno al sopraggiunto re e si ritira nella sua isola di Caprera. 1848 e 1860 sono i due anni grandi della realtà e della leggenda del nostro risorgimento. E il 1860 l'anno più grande della leggenda e del mito di Giuseppe Garibaldi. Dentro questo mito c'è una realtà sufficientemente conosciuta e un lato della realtà assai meno conosciuto. Quello che è conosciuto è questo accorrere dei volontari da ogni parte d'Italia per arrivare a far parte, se non della prima spedizione, che è quella dei Melle, la più famosa di tutti, di qualche d'una delle spedizioni successive. Perché ci sono altre navi che arrivano qualche giorno, qualche settimana, qualche mese dopo ed è anche in questa maniera che l'esercito dei volontari si ingrossa e arriva a Napoli molto più grosso di quanto non fosse quando era partito da quarto. Tutto questo fa parte della realtà mitica ma con un fondamento concreto. Tutta una serie di memorie di patrioti che arrivano troppo tardi quando il Piemonte e il Lombardo sono già partiti ci fanno sapere il loro dispiacere. Anche perché i Mille, aiutati dal numero tondo e risonante, che non è poi corrispondente alla realtà, erano un po' più di Mille, i Mille naturalmente godranno di una rendita riposizione simbolica che si prolungherà per tutta la loro vita. Molti di loro sono giovanissimi, i più sono ragazzi. Sappiamo molte cose dei Mille perché un fotografo, il Pavia, li ha cercati, li ha fotografati e ha costruito un album dei Mille regalando nella prima copia anche a Sua Maestà. insomma poi mettendo in vendita questo album. Quindi conosciamo nomi, molti di loro scriveranno diari e memorie. La leggenda cresce intorno ai Mille ma in realtà poi sono decine di migliaia quelle che partecipano a tutto questo. Però c'è un lato, non voglio dire segreto perché non lo è da un punto di vista storiografico, ma lo è dal punto di vista scolastico e della leggenda, che è quello del contrasto radicale tra i partiti politici di risorgimento. Perché ci sono i partiti naturalmente, ci sono diverse idee d'Italia sui tempi, sui modi, sui punti d'arrivo. Basti dire monarchia o repubblica, ma questo è molto. Monarchia o repubblica dall'alto o dal basso, più dall'alto o più dal basso. Garibaldi è l'uomo dell'incontro e della mediazione. Ebbene, come vediamo che i piemontesi, i moderati, il Regno di Sardegna è disposto a tutto pur di bloccare la rivoluzione in camicia rossa? Tenevamo presente la camicia rossa, il rosso, il colore della rivoluzione. L'esercito sardo pur di evitare che dopo aver raggiunto Napoli i volontari vadano addirittura verso Roma. L'esercito sardo va verso Napoli. Ma per arrivare a Napoli cosa deve fare? Deve attraversare lo stato pontificio, paradossale questo. Coloro che si presentano come la forza d'ordine, devono compiere questo supremo disordine che è andare contro lo stato del Papa Re. Nel realismo che caratterizza Cavour e i piemontesi lo fanno. C'è una battaglia contro l'esercito pontificio a Castelfidardo. Nel nostro paese esistono le vie a Castelfidardo, ma probabilmente i più che passano in questa via non sanno che cosa sia questo nome. Non è semplicemente una località dell'Italia centrale, è il luogo di una battaglia difficilmente memorabile perché è una battaglia per l'ordine ma che esprime qualche cosa che è paradossalmente rivoluzionario venendo dalle genti d'ordine. Naturalmente i piemontesi vincono, arrivano a Napoli e a quel punto Garibaldi deve decidere. Deciderà come in altri casi, e lo vedremo, nel senso di non spingere fino in fondo la radicalizzazione dei suoi che ci sarebbe. Ci sono parecchi che lo aggirano a sinistra, come accade a partire da Mazzini, ma anche Cattaneo e altri dei suoi giovani volontari che fremono, anche perché devo dire che i piemontesi non fanno nulla per riconoscere il valore e tutto ciò che i Garibaldini hanno fatto. Li detestano e non solo politicamente perché sono troppo rossi e troppo repubblicani, li detestano perché non gli sembrano e non sono militari regolari. Non rispetto, non le regole che sono caratterizzanti per i generaloni dell'esercito del regno sardo. Nel risorgimento i vari gruppi politici elaborano diversi progetti di unificazione nazionale. Il più noto è quello di Mazzini, che prospetta una rivoluzione per fondare il nuovo Stato Unitario su basi repubblicane. Ma le idee di Mazzini non sono le uniche del fronte repubblicano. Il radicale napoletano Carlo Pisacane, per esempio, sostiene che la Repubblica debba essere raggiunta con una rivoluzione di popolo. Mentre il milanese Carlo Cattaneo propone un percorso graduale, che conduca infine a una confederazione repubblicana sul modello degli Stati Uniti e della Svizzera, così da garantire la massima autonomia locale. Anche il moderato Vincenzo Gioberti caldeggia la soluzione federalista, ma gli obiettivi sono profondamente differenti. L'abate torinese auspica infatti la nascita di una confederazione fra gli stati italiani da realizzarsi sotto l'autorità del Papa. È proprio intorno a figure come questa che prende forma il movimento chiamato neo-guelfismo, che assegna al cristianesimo e al papato un ruolo guida nel processo di unificazione nazionale. Vicino a queste posizioni è anche il più autorevole esponente del liberalismo moderato, Cesare Balbo, fautore della linea diplomatica. Secondo il politico torinese, gli austriaci rappresentano il principale ostacolo all'unificazione. Ma, vista la loro superiorità militare, egli ritiene che solo un accordo potrebbe garantire il loro abbandono dell'Italia. Ma a metà 800 un nuovo leader si fa strada tra i moderati, il conte Camillo Benso di Cavour. Cavour crede che la costituzione di uno Stato unitario possa avvenire solo sotto la guida del Regno Sabaudo, con l'obiettivo di dar vita a una monarchia costituzionale liberista in campo economico e aperta a un cauto riformismo sociale. Un progetto che si rivelerà vincente e sarà la base del nuovo Stato italiano. Il dopo 1860, dopo l'ospedizione 1000 e il dopo 1861, dopo la nascita del Regno d'Italia, darà origine a una scolastica, a una visione edulcorata della realtà che elimina i contrasti, i veleni, le divisioni, le faziosità, anche reciproche, che c'erano state nella realtà delle cose. E il mito di Laga, il mito di un'unità d'Italia avvenuta attraverso sempre il buon accordo tra i grandi, Mazzini, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele, i più inventivi addirittura ci hanno aggiunto per generazioni più o nono. Naturalmente gli scontri erano stati ben diversi. Ma si capisce, dopo ogni scontro, quando si raggiunge un risultato, si cerca anche di pacificare la visione delle cose. E molti, Mazziniani e Garibaldini, si convertono alle ragioni della monarchia e fanno carriera come monarchici. Cavour, purtroppo per il Regno d'Italia appena nato, muore giovane e muore subito, già nel 1862, rapidamente, in poche settimane di malattia. E i Cavouriani non sono alla sua altezza e sono anche più screanzati di lui nel trattare Garibaldi e Garibaldini. Cavour, più grande politico, aveva ben colto la necessità di andare il più possibile, nonostante tutto d'accordo con questo grande capo rivoluzionario che era disposto a regalare mezza Italia al Regno. I Cavouriani, che adesso governano, pretendono un radicale cambiamento di comportamento e di idee da parte dei repubblicani e non tutti, a partire da Mazzini, sono disposti a concederlo. Mazzini morrà nel 72, quindi mancano ancora diversi anni, muore in Italia, non muore in esilio, muore a Pisa, ma è come se fosse in un esilio interno, costretto a farsi chiamare Mr. Brown, come se fosse un vecchio inglese. Pensate, aveva pensato lui l'Italia per primo e succede questo. Triste, doloroso, non si può farlo sapere a generazioni scolari, molto meglio, anche se non vero storicamente parlando, far immaginare una riconciliazione, un'alleanza universale. In realtà, io penso e ho spesso scritto nei miei libri che il luogo centrale materialmente e simbolicamente del nostro risorgimento sia ciò che avviene all'Aspromonte nell'autunno del 1862. Cosa succede all'Aspromonte, in Calabria, in questo massiccio dell'Aspromonte? C'è che Garibaldi continua a pensare alla liberazione di Roma. Lui ha in mente, dopo il 1860, che mancano ancora Venezia e Roma. È che non sono due pezzi qualunque della penisola, che possano continuare a mancare. Anche Trento e Trieste mancano allora. Ma la valenza simbolica nella storia d'Italia, di Venezia e Roma è particolare. Allora, gli anni 60 vedono una serie di tentativi di Garibaldi dei suoi, Garibaldi della Caprera, ma continua a scrivere, a ricevere lettere, a preparare il terreno per spedizioni, per liberare Roma. E una è nel 1862 e culmina in ciò che avviene all'Aspromonte. Che cosa avviene? Avviene che i piemontesi non sono più i piemontesi, peggio ancora, è l'esercito italiano che viene mandato incontro a circa 2.000 i volontari. Quindi Garibaldi riesce ancora a mobilitare non 1.000, ma 2.000 i volontari per liberare Roma. E avanza, siamo ancora in Calabria, ma a questo punto incontra l'esercito italiano. L'esercito italiano spara, i volontari non sparano, tranne Menotti, figlio e qualche altro giovane che non riesce a trattenersi, anche se Giuseppe Garibaldi corre per le linee gridando ai suoi non sparate, non sparate. Però sparano i bersaglieri e lo feriscono. È una situazione tragica e terribile. Che cosa sarebbe accaduto dell'Italia se invece di colpirlo al piede con una ferita da cui non si riprenderà del tutto mai? Campa ancora 20 anni, siamo nel 62 e vive fino all'82. Avrà male a quel piede, cercheranno un sacco di medici di liberarlo a quella pallotta, alla fine ci riescono, ma continuerà a fargli male. Cosa sarebbe accaduto se avessero colpito un po' più su? Volevano ucciderlo o minacciarlo? Certo è che nel 1834 il Regno di Sardegna lo aveva condannato a morte e nel 1862 il Regno d'Italia quasi lo fucila alla Spromonte. Questa è la realtà delle cose. Difficile per la leggenda mimetizzare tutto questo, ma in larga misura ci si è riusciti. Gli anni 60 sono per molti mazziniani garibaldini gli anni del ritorno all'ordine, ma non per Mazzini, ma non per Garibaldi, ma non per Cattaneo, bisogna dirlo a riconoscimento della realtà e della tenuta in questo caso dei capi. Anni di raccoglimento nella sua isola di Caprera per Garibaldi. Importante per il mito di Garibaldi che ci sia questa isola dove lui fa il presidente di una micro repubblica, ma non fa politica ma fa letteratura. Scrive un poema autobiografico in stile foscoliano, triste, amaro, recriminante, molto critico nei confronti dei Savoia, della monarchia, dei cavuriani, della farina in particolare, l'uomo di Cavour durante la spedizione dei Mille. E scrive romanzi bruttissimi per la verità, ma è molto significativo che un marinaio autodidatta decida di scrivere diversi romanzi negli anni del suo parziale e contingente e non definitivo pensionamento. Abbiamo detto all'inizio di questa scorribanda nella realtà, nel mito di Garibaldi, quanto hanno contato gli uomini di lettere per pensare all'Italia e ho detto anche subito che avviene anche il rovescio, cioè che gli uomini d'azione vogliano fare anche loro gli uomini di lettere. Ma come mai è accaduto questo? Perché gli uomini di lettere sono stati così importanti già dall'inizio dell'Ottocento e potremmo andare anche più indietro alla fine del Settecento, ma perché nessun'altra lingua, nessun'altra cultura, nessun altro paese ci sono stati già nel Trecento, la Divina Commedia, il Decameron, il Canzoniere di Petrarca, capolavori letterari in cui la lingua, la cultura e gli uomini di lettere della penisola hanno dimostrato di che cosa sia capace quella cosa che geograficamente esiste ed è così ben delimitata dal mare e dalle Alpi e che si chiama da millenni Italia. E però da secoli non c'era, non c'era uno Stato. Di nuovo grande arte, grande cultura con il Rinascimento nel 1400-1500 e da secoli, da tutta Europa, il viaggio in Italia, cioè i giovani europei che compiono la propria educazione e entrando nell'età adulta vanno a vedere l'Italia e stanno di solito in un settimana, almeno mesi, qualche volta un anno. Naturalmente quelli che hanno beni di fortuna o gli artisti che possono anche improvvisare la propria vita vanno a vedere l'Italia. Solo che tutta questa forza e questa riconoscibilità e questa identità particolarissima, riconosciuta da tutti sul piano artistico e culturale è anche della natura, della bellezza dei suoi cieli azzurri. L'Italia non ce l'ha invece dal punto di vista statuale. Tra le riflessioni di Garibaldi c'è anche questo, tra politica e letteratura. Gli anni 60 sono, dopo Spedizione dei Mille e mentre cerca di arrivare a creare le condizioni per liberare Roma, sono gli anni di una riflessione che si esprime in romanzi, nel poema autobiografico e nelle sue memorie. Scrive e riscrive e pubblica in varie edizioni le sue memorie che investono tutta la sua vita, dall'infanzia al Sud America, dando molto spazio ai momenti di libertà avventurosa, all'amore per Anita, al suo grande amore romantico per Anita, la moglie che gli dà dei figli e che muore poi in una maniera così tragica, rappresentando anche un nuovo tipo di donna, compagna di idee. Come ce ne sono diverse nel nostro risorgimento? La maggior parte di loro partecipano cucendo bandiere, questa è la mitologia anche scolastica, cucire tricolori e farli trovare pronti al momento buono del moto insurrezionale o della battaglia. Ma ci sono le donne che pensano in maniera più impegnativa una nuova femminilità come quella che si affida, e torniamo alla letteratura, a un capolavoro e alla nostra narrativa del tempo, Confessione di un italiano, più nota come Confessione di un plagenario, all'epoca pubblicata così, di Polito Nievo, Nievo è uno dei mille e concepisce il suo grande personaggio la Pisana. La Pisana è una anita, è una compagna dei giovani maschi del tempo e partecipa insomma dell'esperienza e dell'idea. È importante naturalmente che nel risorgimento politico ci sia stato anche qualche iniziale cambiamento nella condizione femminile, e c'è stato. Il melodramma è un genere musicale molto popolare nell'Italia dell'Ottocento, ed è il più rappresentato nei numerosi teatri disseminati nella penisola, nei grandi e nei piccoli centri urbani. La familiarità del pubblico italiano, anche quello poco colto con l'opera lirica, è tale che essa rappresenta uno dei principali mezzi di divulgazione delle idee, in particolar modo, delle istanze patriottiche del risorgimento. I temi di molte opere, soprattutto di quelle a sfondo storico e il linguaggio scelto dai librettisti, rispondono infatti bene al fermento politico risorgimentale. Se ne accorge lo stesso Mazzini, che sottolinea l'efficacia di questa arte nel rendere popolare il sentimento nazionale. Composti spesso senza diretti richiami al presente, i melodrammi storici di Rossini, di Bellini, di Donizzetti e di Verdi vengono arricchiti dal pubblico che li ascolta di significati patriottici. Opere come Guglielmo Tell di Rossini o Norma di Bellini ben si prestano infatti a riletture politiche, anche perché spesso narrano la storia di due popoli in conflitto, uno oppresso e l'altro oppressore, con involontari rimandi all'attualità. Simbolo dell'accostamento tra opera e risorgimento è Giuseppe Verdi. Il suo Nabucco, che debutta nel 1842, racconta la vicenda di un popolo oppresso e il famoso coro del Vapensiero diventa il canto doloroso degli italiani contro gli austriaci. Lo stesso vale per la battaglia di Legnano, rappresentata durante la Repubblica Romana nel 1849, che parla della lotta dei comuni lombardi contro Federico Barbarossa, facilmente identificabile come un precedente invasore germanico. Nel corso del risorgimento, dunque, i teatri si riempiono di politica e diventano fondamentali spazi culturali in cui il mito dell'Italia unita si rafforza e si diffonde tra i vari ceti sociali. Il 1866 è l'anno della terza guerra indipendenza. Garibaldi ha una sua parte collaterale ma significativa all'interno di questa guerra. Il Regno d'Italia, le autorità politiche e militari gli assegnano un fronte secondario che è il fronte del Trentino. Però la bravura militare del guerrigliero fa sì che il fronte secondario potrebbe diventare primario. Perché cosa succede? Succede che i generali sabaudi riescono intanto a perdere, pur avendo un esercito potenzialmente doppio dell'esercito austriaco nella battaglia di Custosa. E la flotta, la marina, non soltanto l'esercito, sta perdendo, perde nella battaglia di Lissa, sempre durante la terza guerra indipendenza. E invece intanto i volontari di Garibaldi vincono nella battaglia non grande, ma è l'unica vittoria che c'è e quindi bisogna tenersi la buona di bezzecca. A quel punto la porta è aperta verso Trento e siamo nel 1866, non nel 1915-18, siamo mezzo secolo prima. La storia del Trentino e la storia d'Italia avrebbero potuto essere diverse se a quel punto, per ragioni in parte politiche e diplomatiche, in parte forse anche d'ordine psicologico, le autorità politico-militari del Regno d'Italia non dessero l'ordine a Garibaldi di arrestarsi, di fermarsi, di tornare indietro, di rinunciare alla possibilità di andare avanti verso Trento. E qui c'è il famoso telegramma. Il telegramma con cui Garibaldi risponde ha una sola laconica parola, obbedisco. Garibaldi si comporta in maniera militaresca, più regolare dei regolari, starei per dire. I regolari pensano ma dei volontari che siano dei rossi, degli scapestrati, portatori e seminatori di disordine, per questo non gli avevano voluti l'obbedisco di Garibaldi, è corrispondente a come Garibaldi si era comportato fino a quel punto, perché in fondo lui era entrato nella società nazionale a suo tempo, aveva accettato il parola d'ordine Italia e Vittorio Emanuele, nel 1860 a Napoli aveva fatto buon viso, a cattiva sorte, se era tornato in Isola di Caprera, mentre molti dei suoi le dicevano ma cosa fai, regali tutto agli altri, siamo noi che abbiamo vinto. Di nuovo obbedisco. Si capisce che questo obbedisco viene quasi idealmente incorniciato dai moderati, dai monarchici come esempio di benfare politico. D'altra parte il telegramma si è conservato, esiste, non è mitologia, il mito viene costruito ancora una volta attorno a qualche codico concreto. Questa guerra è tutt'altro che ricca di gloria per l'Italia, anzi è un momento basso, sconfitti per terra e per mare e tuttavia il Veneto, con Venezia, arriva a entrare in questa squallida maniera all'interno del Regno d'Italia. Garibaldi ancora una volta ha salvato il salvabile, ma lui continua ad avere in mente Roma, perché Roma è ancora del Papa Re, è ancora irrisolto questa faccenda che riguarda non solo un territorio, e che territorio con la città di Roma, la futura capitale d'Italia. C'è la presenza di questo corpo estraneo di un capo politico che è tale su base ideologica e religiosa e che con la Chiesa Cattolica è stato il nemico dell'unità d'Italia. Bisogna risolverla. Nuovo tentativo, come alla Spromonte nel 62, nel 67 finisce negativamente a Mentana. E questa volta di nuovo, come nel 49, sono i francesi che intervengono contro i volontari garibaldini per impedire che lo Stato pontificio venga a soffrirne. Ancora una volta però Garibaldi aveva trovato i volontari. Non era ammissibile naturalmente dal punto di vista del governo. Nel 62 era intervenuto direttamente l'esercito italiano, nel 67 ci pensano i papalini aiutati dai francesi, ci pensano i francesi in particolare a bloccare l'entrata dei volontari a Roma. E a Roma intanto fallisce un moto dall'interno, che era stato immaginato dal partito d'azione. Per tutti gli anni 60 Garibaldi ha pensato a Roma, a come risolvere la questione romana, sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista delle inframmettenze clericali di papalini all'interno della laicità dello Stato. Quando il problema di Roma viene risolto, il 20 settembre 1870, Garibaldi non c'è e nemmeno Mazzini è presente. E non avviene per caso, avviene per precisa scelta politica dello Stato. Lo Stato è governato nel 1870 dalla destra storica, cioè dalla componente conservatrice del Partito Liberale, dagli eredi di Cavour, che non vogliono tra i piedi i repubblicani e neppure i mezzo repubblicani, i rivoluzionari, il Partito d'azione. Vogliono sì affrontare e risolvere la questione romana, vogliono prendere Roma, ma alla loro maniera. E quindi bisogna che il Partito d'azione e in particolare i suoi uomini più esposti, Mazzini e Garibaldi, non siano presenti quando il 20 settembre del 1970 i bersaglieri danno l'attacco a Porta Pia e qualche ora di cannonate apre il famoso buco nelle mura della città, che più pomposamente invece che buco viene chiamato Breccia, la Breccia di Porta Pia. Dura poco ore la resistenza dell'esercito pontificio Papa, che è sempre Pionono fino al 1878, dal 1946. Pionono vuole soltanto far sapere a tutta Europa, a tutto il mondo, che cede alla violenza, ma lui non avrebbe voluto lasciare il suo stato di sovrano. Come mai i moderati si decidono a fare quello che avevano impedito di fare? Intanto quello fanno loro e questo è fondamentale. E poi perché il grande difensore del Papa Ré in quel momento è in tutt'altre faccende affascendato. Napoleone è impegnato a perdere la guerra con i prussiani e sta non solo perdendo la guerra, ma perdendo anche la condizione di imperatore. In quel momento lì una serie di preparativi diplomatici e di accordi più o meno sotto banco con i vari governi europei fa sì che il Regno d'Italia possa risolvere il problema di Roma, come al solito presentando l'attore piemontese, che ormai è diventato l'attore italiano, come portatore di ordine pur mentre fa qualche cosa che trasforma l'ordine costituito. Ma se fossero i repubblicani a risolvere lo stesso problema, i repubblicani sarebbero portatori di disordine dal punto di vista sociale e politico agli occhi naturalmente delle genti d'ordine e dei governi d'ordine dell'Europa. Va segnalato che Garibaldi che non riesce ad essere presente alla fine, e quanto sarà dispiaciuto a Garibaldi e a Mazzini, non poter essere a Roma il momento buono. Ma Garibaldi riesce alla nobiltà di esserci in Francia. Si dimentica di quello che i francesi hanno fatto contro la Repubblica Romana nel 1849 e contro di lui personalmente a Mentana nel 1867 e va ad aiutare, non Napoleone, Napoleone Romana è l'amico dei moderati, è l'amico del Regno d'Italia. Lui va ad aiutare i francesi, ad aiutare la Francia, la douce France, sempre per le sinistre la Francia è l'erede della rivoluzione francese. Sarà sempre così, anche all'altezza della Prima Guerra Mondiale la Francia sarà questo. E in fondo anche ai nostri giorni abbiamo visto cantare la Marsigliese da personaggi politici che in realtà sono contrapposti dal punto di vista dei loro progetti politici, ma la Marsigliese è tante cose dal punto di vista storico. Garibaldi ha i reumatismi, ha i mali tipici del marinario da tanti anni. A Benzeca ha dovuto comandare la battaglia addirittura dalla carrozza, visto che non riusciva a camminare bene. Eppure camperà ancora diversi anni, tutti gli anni 70 e fino all'82, sempre in questo suo romitaggio di caprera, leggendo, scrivendo, pensando, ricordando, dedicando il senso a memorie e coltivando in una certa misura, anche facendo così, anche con questa lontananza, un mito che non è destinato a dissolversi con la sua morte nel 1882. Per molte ragioni, perché ha fatto cose grandi e perché ha trovato biografi, narratori e memorialisti, oltre a essere stato lui stesso, il primo memorialista di se stesso, ha avuto Alessandro Dumas. Gli ammiratori dei tre moschettieri possono benissimo vedere in Garibaldi un vivente d'Artagnan. Dumas quindi era servito molto a propagare in Europa e nel mondo il mito di Garibaldi. Ma poi ci pensano i garibaldini, molti di loro scrivono diarie e memorie tra i mille e tra altri che partecipano all'azione dei mille. E poi ci sono i figli, c'è Menotti, c'è Ricciotti, tutti e due hanno nomi di patrioti, sono dei cognomi di patrioti che diventano nomi di figli di Garibaldi. Soprattutto Ricciotti vorrà vivere anche lui una vita degna del figlio di un Garibaldi e quindi cercherà per decenni le buone cause politiche militari in giro per il mondo, facendo anche lui la guerra di guerriglia in nome della libertà dei popoli. Quindi il mito sopravvive anche perché c'è chi ci pensa, morto Garibaldi, a raccontare la vita di Garibaldi, a reinverare la vita di Garibaldi. Non sempre i reinveramenti riescono e vanno a buon fine. Può accadere, si sa, che qualche cosa che è stato drammatico in prima battuta diventi meno serie in seconda battuta, ma non è sempre stato così. Ci sono stati di nuovo dei momenti rispettabili dal punto di vista del mito garibaldino. Per esempio quando nel 1914 scoppia la guerra europea e l'Italia non entra subito in guerra, ma i nipoti di Garibaldi, che sono tanti perché Garibaldi aveva avuto diversi matrimoni e tanti figli, i nipoti di Garibaldi sono convinti, hanno voglia di menare le mani, sono convinti di potersi riconoscere nella causa della Francia. Ebbene, i nipoti sono i figli di Ricciotti. I nipoti e lo stesso anziano Ricciotti in qualche misura vogliono combattere e si presentano volontari in Francia perché la guerra non c'è ancora in Italia. E nel 1914 si combattono per davvero, non sono parole, sono cose, ancora una volta. Questa è la superiorità. Il mito di Garibaldi è così forte e durevole perché molte delle parole del tempo hanno avuto la forza e la possibilità di diventare cose, di diventare fatti. Quindi c'è vero tutta una fraseologia risorgimentale, ma i martiri ci sono davvero, i morti ci sono davvero, saranno stati pochi come oggi polemicamente si dice, ma gli idealisti c'erano per davvero. Bene, ci sono due nipoti di Garibaldi che muoiono in Francia durante questo scampolo iniziale della prima guerra mondiale. Dopodiché se proseguiamo ecco le cose si complicano fra le due guerre, perché i nipoti di Garibaldi si dividono politicamente e troveremo un nipote fascistissimo che addirittura arriva a sostenere che la camicia rossa oggi è diventata la camicia nera, perché in realtà bisogna militare oggi con Mussolini. La memoria democratico-repubblicana del vero Garibaldi viene salvata da un altro nipote, Sante Garibaldi, esule in Francia, che farà la resistenza, sarà a Dachau e questo è l'approdo che può essere da parerci più confacente rispetto alla storia del grande avo Giuseppe Garibaldi.